vedo quel cane ogni mattina alla mia porta mi segue mi perseguita non ha più un padrone credo che riesca ancora a sentire l'odore del suo sangue su di me sono ore che lo vedo lì immobile all'angolo della mia stanza nel buio tutto intorno i suoi occhi sono iniettati d'odio e di rancore non so cosa fare forse dovrei slegarlo ormai quando non ci sarà più posto all'inferno i morti cammineranno sulla terra già ma la cosa forse peggiore è che quando non ci sarà più posto sulla terra i vivi cammineranno all'inferno la mia vicina di casa è ossessionata dagli spiriti e mi ha confessato di sentire delle presenze in casa sua devo cercare di essere più silenzioso la prossima volta sono giorni che mi supplica di lasciarla andare non riesco più a sopportare i suoi lamenti domani la porterò sul cornicione e l'accontenterò quando apri la lettera e lessi tra sette giorni morirai rimasi scioccato ma prima di dare le spalle al postino avrei dovuto guardare il timbro postale di sette giorni fa